Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di ieri nel tratto Lombardo dell'autostrada A4 dove ha perso la vita un 38enne sulmonese, Luca La Civita. Lo schianto sarebbe avvenuto verso le 17.30 in direzione Venezia nel tratto compreso tra l'uscita di Pero, Fiera Milano e lo svincolo con la 8 via Lecertosa. Stando una prima ricostruzione, furgone condotto dal giovane di Sulmona avrebbe impattato contro un auto cisterna che viaggiava vuota per cause che saranno chiarite dalla polizia stradale intervenuta sul posto per i rilevi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro. In autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano un'automedica e un'ambulanza del 118. I sanitari purtroppo hanno voluto soltanto constatare la morte del 38enne l'autista del furgone deceduto in seguito all'impatto. Il giovane nipote dell'ex sindaco Franco, assai conosciuto in città si era trasferito nel Bergamasco con la famiglia da diversi anni una tragedia che ha scosso l'intera comunità sulmonese e subito dopo la diffusione della notizia soprattutto per il suo sorriso nonché per il suo carattere gioviale un fulminaccio il sereno ha commentato il sindaco della città Gianfranco Di Piero per interpretare il sentire collettivo una persona più che vera ha sempre messo gli altri a primo posto commentano alcuni amici sulmonesi costernati dal dolore alcuni sono partiti proprio per raggiungere i familiari di Luca intanto la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che sta valutando se svolgere o meno l'autopsia vista la dinamica dello scontro ancora da ricostruire nel dettaglio